Ah mio caro, le donne, che mascalzone! Perché mi hanno fatto uno scherzo tremendo? A te? Sì, a me! Le donne o una donna? Due donne. Due donne contemporaneamente? Quale scherzo? Due giovani erano seduti dinanzi a un gran caffè del boulevard, sorbendo quegli aperitivi che hanno l'apparenza di infusioni fatte con tutte le sfumature di una scatola di acquarelli. Avevano presso poco la stessa età, dai 25 ai 30 anni. Uno era biondo, l'altro bruno. Avevano la mezza eleganza dei mediatori, degli uomini che frequentano la borsa e i salotti, vivono dappertutto, amano dappertutto. Ti ho raccontato, vero? La mia relazione con quella borghesuccia incontrata sulla spiaggia di Dieppe. Sì, tu sai com'è andata quella faccenda. Avevo un amante a Parigi, una donna che amavo, una vecchia amica, una buona amica, insomma, un'abitudine alla quale tenevo moltissimo. Alla tua abitudine? Sì, alla mia abitudine e anche a lei. Era maritata un bravo uomo cui volevo molto bene ugualmente. Un buon ragazzo, cordiale, un vero amico. Era una casa, insomma, dove avevo sistemato assai bene la mia vita. Ebbene, ebbene, questi coniugi non potevano abbandonare Parigi e mi trovai l'estate scorsa a Dieppe, vedovo di lei e di lui. Perché andavi a Dieppe? Per cambiare aria. Non si può rimanere sempre sui boulevard. Allora? Allora incontrai sulla spiaggia la piccola di cui ti ho parlato. La moglie del capufficio? Sì? Sì, si annoiava molto. Il marito veniva a trovarla solo le domeniche. Ed era orribile. La compresi perfettamente. Dunque abbiamo riso e ballato insieme. E il resto? Sì, più tardi. Insomma, ci incontrammo, ci piacemmo. Glielo dissi e la El se lo fece ripetere per capirlo meglio e non oppose alcuna resistenza. L'amavi? Sì, un poco. Era molto carina. E l'altra? L'altra era a Parigi. Insomma, per sei settimane tutto andò bene e ritornammo a Parigi in ottimi rapporti. Come si fa a rompere con una donna che non ha verso di te alcun torto? Io sì, sono capace. Come fai? La pianto. Ma come fai a piantarla? Non vado più a trovarla. Ma se lei viene da te? Non ci sono. E se ritorna? Le faccio dire che sono indisposto. E se si offre di curarti? Le faccio una partaccia. E se non si rassegna? Scrivo una lettera anonima al marito, perché la sorvegli nei giorni in cui è solita venire da me. E invece non so resistere. Non so rompere. Ne faccio collezione di donne. E ve ne sono di quelle che non vedo più di una volta all'anno. Altre ogni dieci mesi. Altre ancora ogni mese. Altre invece nei giorni in cui hanno voglia di desinare in trattoria. Quelle che ho così scaglionato nel tempo non disturbano. Mi trovo imbarazzato con quelle nuove per distanziarle un poco. Allora? Allora la mogliettina del capo ufficio al ministero era tutta fuoco, tutta fiamma, senza difetti, come ti ho detto. Poiché il marito trascorreva tutti i suoi giorni in ufficio, era abituata a venirmi a trovare all'improvviso. Due volte rischiò di trovarvi la mia abitudine. Diavolo. Sicuro fissai a ciascuna determinati giorni per evitare confusioni. Il lunedì e il sabato all'antica. Il martedì, il giovedì e la domenica alla nuova. Perché questa preferenza? Ah mio caro, perché era più giovane. Così che ti rimanevano due soli giorni di riposo per settimana. Mi bastavano. Congratulazioni. Mi è capitata, figurati, la storia più buffa del mondo e anche la più seccante. Da quattro mesi tutto procedeva a meraviglia. Dormivo fra due guanciali ed ero veramente felice. Quando all'improvviso lunedì scorso aspettavo la mia abitudine allora consueta, al tocco un quarto fumando un sigaro. Fantasticavo, molto soddisfatto di me stesso, quando mi accorsi che l'ora era trascorsa. Fui sorpreso, perché lei era solitamente puntualissima. Credetti a un piccolo ritardo casuale. Tuttavia una mezz'ora passò, poi un'ora, un'ora e mezza. Compresi che doveva essere stata trattenuta da una causa qualunque, un'emicrania forse, o un infortunio. Sono molto noiosi questi contrattempi, queste attese. Inutili, molto noiose e molto snervanti. Mi decisi ad uscire e non sapendo che fare mi recai da lei. La trovai intenta a leggere un romanzo. Ebbene, le chiesi? Dispose tranquillamente. Caro, non sono potuta venire. Sono stata impedita. Da che cosa? Da alcune occupazioni. Quali occupazioni? Una visita noiosa. Pensai che non volesse dirmi la vera ragione. E poiché era molto calma, non mi preoccupai granché. Contavo di recuperare il tempo perduto l'indomani con l'altra. Il martedì dunque ero molto infervorato e molto infiammato in attesa dell'altra. Stupito anche che non anticipasse l'ora della visita. Guardavo il pendolo a ogni momento, seguendo le sfere con impazienza. Vedi trascorrere il quarto, la mezz'ora, poi due ore. Non riuscivo più a star fermo, percorrendo la stanza a passi lunghi, appoggiando la fronte alla finestra, tendendo l'orecchio alla porta per ascoltare se per caso lei salisse le scale. Due ore e mezzo passarono così, poi tre. Afferrai cappello e corsi da lei. Stava leggendo, amico caro, un romanzo anche lei. Le disse ansiosamente. Ebbene? Rispose altrettanto tranquillamente della mia abitudine. Caro, non sono potuta venire. Sono stata impedita. Da che cosa? Da alcune occupazioni. Quali occupazioni? Una visita noiosa. Certo, supposi immediatamente che sapessero ogni cosa. Ma mi apparivano così placide, così calme, che finì con lo scartare il sospetto per credere piuttosto a una coincidenza bizzarra, non potendo immaginare una tale dissimulazione da parte loro. Dopo un'ora di conversazione amichevole, interrotta d'altra parte dall'ingresso della sua bambina, dovetti andarmene assai seccato. E figurati che l'indomani fu la stessa cosa. La storia durò tre settimane senza una spiegazione, senza che nulla mi rivelasse quella strana condotta di cui tuttavia immaginavo il segreto. Sapevano tutto? Perbacco. Ma come? Ah, ho dovuto lambiccarmi prima di sapere. Come venisti a sapere? Per lettera. Mi diedero, lo stesso giorno e negli stessi termini, il congedo definitivo. E fu così. Ah, è vero che le donne portano sempre addosso un esercito di spilli. Le forcine dei capelli, vedi? Le conosco. Ne diffido e sto attento. Ma gli spilli sono molto più perfidi quei maledetti piccoli spilli dalla capoccia nera che sembrano tutti uguali a noi sciocchi, ma che le donne sanno distinguere come noi distinguiamo un cavallo da un cane. Sembra che un giorno la moglie del capo ufficio abbia appuntato uno di questi spilli rivelatori alla tappezzeria della mia camera, vicino allo specchio. La mia abitudine aveva scorto di colpo sulla stoffa quel piccolo punto nero, piccolo come una pulce. Senza dir nulla l'aveva tolto, sostituendolo con uno spillo suo, pure nero, ma dal capo diverso. Indomani la prima volle riprendere il suo spillo e si accorse della sostituzione. Un sospetto allora la colse e ne appuntò due, là dove il giorno prima aveva posto quell'uno, incrociandoli. Abitudine rispose a quel segno telegrafico con tre puntine nere, una sull'altra. Cominciata così quella intesa, esse cominciarono a comunicarsi, senza dirmi nulla, soltanto per spiarsi. Poi sembra che l'abitudine, più ardita, abbia un giorno arrotolato attorno ad uno spillo un minuscolo foglietto, sul quale aveva scritto fermo posta, vulvar malecherb, si dì, si scrissero. Avevano scoperto tutto. E non fu la sola cosa che intercorse tra loro. Esse agivano con precauzione, con mille astuzie, con tutta la prudenza necessaria in simili casi. Ma l'abitudine ebbe un colpo d'audacia e diede un appuntamento all'altra. Ignoro ciò che ci sono dette. So soltanto che ho fatto le spese del loro appuntamento. Ed ecco tutto. Tutto qui? Sì. E non le vedi più? Le vedo ancora, ma come amico. E loro? Si sono rivedute? Sì, sono diventate amiche. Molto, molto intime. Guarda, guarda. E questo fatto non ti fa venire in mente un'idea? no. Quale? Ingenuo. Quello di far loro appuntare gli spilli insieme. Ma forse lo fanno già.